ragazzi facciamo una diretta di mezz'oretta troviamo questo gioco nuovo poi si collegherà la ponta penso porterà di nuovo star wars e troviamo questo gioco so che si vedrà so che si vedrà un po' così ma purtroppo non è originale nel senso che non è una versione di steam né una versione di dlc fatto serio, l'hanno caricato e quindi si vedrà in un quadratino proviamo a farlo partire in game ditemi cosa potete vedere faccio scattura schermo non vedreste una ciolla quindi ora quella lì è la grafica non so cosa farci comandi faccio una foto perché a ricordarmeli tutti è lunga cosa ok nuova partita gran nuovo gioco ok normale ok 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 No! 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 Hello, Detective Tapp. I want to play a game. Your obsession with catching me has robbed you of your life and the lives of others. You abuse every resource available to you, tearing apart lives in your quest to find the truth. L'ospettatore Rive, 21 follower Perfetto, la trappola dell'urso Fate la scelta No, no, no Porco No, no, no Un attimo, figa Oh No Al contrario, cazzo Al contrario Al contrario Al contrario Al contrario Oh Ok 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 Ma no, ma com'è cazzo è possibile? l'abbiamo così da Non capito io. Ho capito un cazzo di quello che devo fare. Cazzo. 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 Non è così, non credo. Eh, è questo. Cazzo. 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 giuro che per me è complicato sto rollo non è questo è un uragano non è che ho buggato io il gioco posso fare un cazzo scusè comandi ogni tipo di trap movimenti la camera non è che ho buggato non sto facendo un cazzo non sto facendo un cazzo ce l'ho fatta non sto facendo un cazzo ok porta sigillata ok no muovo avanti indietro lui me la no 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 prendi assolutamente 2 trovare la combo guarda il mio gioco guarda il mio gioco 1 mi piace da qualcosa 1 3 4 1 1 3 no 3 1 3 4 3 4 3 1 5 6 4 4 4 1 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 7 8 9 8 9 8 9 10 11 1, 3, 4 Già bestemmiando 4, 3, 1 Non c'è un cazzo Questo Dammi eh 4, 3, 1 Non c'è un accendino Ok 3, 2, 3, 2 Arrivano niente Non ho niente Scusate Faita mia Quello è qua 4, 3, 1 3, 1 3, 1 1, 3, 4 Non ci sto capendo un cazzo io 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 2, 3, 4 Prova bestemmia, come se si collega qualcuno, mi da una mano qualche mente brillante, due spettatori, se avete scritto nei commenti non vi ho visto scrivete, dopo faccio giocare punta, punta ti faccio giocare quando sei pronto, adesso già bestemmiando, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, che se io lo unisco diventa no, 4, 3, 7, vaffanculo 4, 3, 4, 3, 7, no aprila Prova il prossimo indizio di so, vi chiedo scusa se si vede così ma è un gioco di nuovo scaricato, quindi troviamo il nuovo indizio di so, ok aiutami, tirami fuori qui c'è qua qui dentro mi senti ci sono i due spettatori in chat, che li vete ok avrei bisogno di collaborare con qualcuno per fuggire, attivando il pannello entrambe le porte si apriranno Deteccio dapp, devi prima trovare l'obiettivo nelle lavatine, per rinoccare il pannello come per la lavatine, avevo raggiunto le vado di obfuscazione delle lavatite ora Deteccio, digna su altri come hai forciato altri a digna su di digna su te se chiun uno d'ora d'ora sapevo la tua tante, i 이걸 scelari in questa ruota un minuto e trenta cazzo devo fare io in un minuto e trenta libera la vittima recupera il fusibile del gabinetto sarà sicuro e non sarà sicuramente nel cesso da agnari porco due ma no troppo semplice se li devo fregare in un cazzo di gabinetto quattro che magari io trovo qualcosa cazzo qua sa che è quello esamina il gabinetto per trovare il fusibile prima di perdere i sensi per il dolore usa il fusibile pure vai che cazzo è lì è un fusibile può usarlo per attivare un... ah si ferma il trenta da quando l'ho trovato illegalmente appunto purtroppo si vede così nella grafica da oh vaffanculo non ho letto capito io ho provato a ingrandire tutto ma è scaricato sto gioco si si dopo vai tu più avanti ok perfetto c'ho anche la vita perchè io sono scalzo l'altro ponta sono morto 50 volte la prima mantini per usare una siringa la tua servita si recupera ok vai tu vai tu dammi solo una mano a fare sto coso salvo e poi magari lo facciamo stasera vedi c'è poi 4 per accendare al momento è un accendino riverse fra loro chi cazzo è che sta correndo figlio porco due due tipi che si stanno prendendo spartellate due tipi che si stanno prendendo spartellate due tipi che si stanno prendendo spartellate no devo fuggire sì ecco la lili inculata ecco la lili inculata ecco la lili inculata dove cammino te pensa che questo gioco will you appreciate your life? non c'è niente eh? apprezzerai la tua vita non so se apprezzerò la mia vita ma ponta tu vuoi venire qua stasera che arrivo a ponta e scrivo a tone il tipo vestito da maiale teatro leggi la costruzione del manicomio no porco due questo è al contrario vabbè nota che ora vuoi fare dopo le otto? una del manicomio Whitehurst è terminata finalmente ce l'abbiamo fatta l'ho ripetuta al personale fino alla nausea ma ve lo dirò ancora una volta possiamo fare la differenza per cambiare la vita della gente vi ringrazio semplicemente tutti per il vostro contributo in fede ok io ho un diario ho qualcosa non ho niente se mi dici l'ora punta lo dico io sento una persona se viene vediamo se freddo a toninello è libero vediamo se freddo a toninello è libero vediamo se freddo a toninello è libero anzi non so se a toninello viene magari c'è milan napoli porco due adesso lui e te punta facciamo la live da qua io non ho visto un cazzo sono venuto da qua c'è una videocamera là c'è qualcuno là fuori punta ma è ancora ho ancora sette minuti poi ti faccio iniziare volentieri ma l'ho anche salvato cammina cadavere per te prendi tu no dimmi quando manca sette punta perché mi sto incazzando questo gioco probabilità aspetta che mi ha scritto tone dammi una mano punta che facciamo sto cazzo di gioco un secondo aspetta che raccogli ecco avrò giocato anche stamattina fino a mezzogiorno un'oretta da da che palle eh comunque è un'altra chicca questa eh il manicomio white house è finalmente aperto i pazienti afflitti dalla turba più volente e pericolosa dopo il suicidio di mio padre dovuto ai suoi disturbi mentali ho giurato di contribuire alla alla riabilitazione ho giurato eh di tutti coloro che ne avessero avuto bisogno questo manicomio sarà all'avanguardia nella cura tradizionale sperimentale ok questi appaso ma non ho letto niente che non ho capito non ho capito non ho capito che cazzo devo fare caro attore non mi distrarre adesso figa punta scrivi attore mettiti d'accordo mi sta facendo 3.000 domande ho capito ma non riesco a colpirlo figa non ti fa leggere dio caro non schiaccio niente va via cazzo è velocissimo cosa stai facendo sorry buddy questo è parte del mio niente personale io prenderò qualcosa rapido se fossi tu togli adesso mi dice cosa fare premi ci parlo tra una posizione di combattere con la forza dei tuoi pugni o con un'arma premio 1 per sferare un attacco leggero e 3 per sferare un attacco pesante parlo con il plus alto e 2 usando come armi oggetti trovati nell'ambiente 5 2 3 non fa un cazzo non fa un cazzo vecchio non colpisce un cazzo ma è che non colpisce un cazzo non colpisce un cazzo non colpisce un cazzo non colpisce un cazzo vedevo vedevo guarda zio ma raccogli uno incredibile qua che li avviterete anche voi i tasti ho capito appunto che nel secchio c'è un'arma ora che non mi fa combattere anche prima ho fatto una fatica a liberarmi vabbè fancura ok tu non raccogli guarda qua primi shift per adottare una posizione da combattimento e con la sola forza dei tuoi pugni o con un'arma primi uno per sferare un attacco leggero e tre per sferare un attacco pesante quindi questo fanculo shift taglialo forco due io shift come se fosse la barra spaziatrice una chiave si ringozza subito 5 giù si ringozza non ce l'ho più non ce l'ho più la si ringozza la risposta è semplice trovate le tette di david tappo ho nascosto una chiave nel suo corpo l'unica via di fuga che avete fatto quello che dovete per sopravvivere ok ma io la chiave ce l'ho che cazzo devo fare vigilata blocca apri c'è poi a cazzo aspetta 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 jinx ha disaminato il manicomio riporta e trappola primi rapidamente il pulsante è giusto non appena scende la carrucola primi il pulsante è sbagliato non primi in tempo il pulsante è giusto si uno sparo non ho capito un cazzo ma va bene così da tanto di inculata puoi scassinare sedato in alcune porte usando oggetti trovati nell'ambiente circostante blocca blocca ora al diario com'era porca figa vado a donare il teatro vai ai nostri audio progetti portas blocca portas blocca porta sblocca ho capito io porta sblocca però ma cazzo faccio sbloccarla zio non cazzo guarda sblocca guarda sblocca 4 minuti e faccio prendi tutto no 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 ma porca figa a quanto pare non sei stato attento e ti hanno sparato ti ho rattoppato sopravviverai durante l'operazione ne approfitto per nascondere una chiave nel tuo corpo per te la chiave è inutile ma non per gli altri perfetto alcune porte possono ok si me l'hai detto adesso cose leziona che cazzo ne so può essere una roba del genere no scusa un attimo cardinal a porta punta dammi una mano leziona un cilindro 1-3 ruota capendo capendo giuro l'alimor accitua maledetta me che ho fermo mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto questo è il chiodo che entra si potrebbe fare così si capire posso andare a voto oh questo va così no ma non può non dare un indizio Fii Puntara C6 8 minuti per fare 3 livelli capito capito capendo una sega capendo una sega 1-4 2-3 che Ordo. Ok, niente Allora ragazzi Facciamo andare avanti in punta Adios